Il conflitto neurovascolare è una condizione anatomica per cui un vaso, un'arteria, può essere anche una vena alle volte, del cervello è a contatto stretto con un nervo, in questo caso parliamo soprattutto di nervo trigemino, nervo facciale o nervo glosso-paringeo che sono nervi cranici e che sono nervi che, il trigemino è un nervo importante per la sensibilità di tutto il volto, il facciale è un nervo motorio che muove tutti i muscoli della nostra faccia, un muscolo mimico e il glosso-paringeo è un nervo che prende la sensibilità della zona della gola, tonsillare eccetera eccetera. Allora quando ci sono delle arterie che normalmente noi abbiamo nel nostro cervello che vanno a toccare questi nervi per un motivo anatomico, una persona nasce già così e queste arterie toccano dei punti particolari di questi nervi che sono in genere le zone di entrata o di uscita, che dir si voglia, quando questi nervi vengono contattati e compressi da queste arterie in questi punti si verifica quello che è il conflitto neurovascolare. in conflitto perché la pulsazione continua dell'arteria contro il nervo in quel punto particolare, la zona di nascita di questo nervo, nel tempo ci vogliono degli anni, genera poi delle condizioni cliniche particolari, sgradevoli e a volte proprio tremende, quella della regia trigeminale e per cui queste disfunzioni del nervo sono proprio dovute a questa azione dell'arteria che dovrebbe essere un alleato ma diventa in questo caso un nemico e quindi parliamo di conflitto perché normalmente ci sono i contatti neurovascolari, i contatti sono contatti normali, l'arteria si avvicina, tocca il nervo ma lo fa in punti tra virgolette muti, innocenti, per cui questo contatto tra arteria e nervo non provoca nessun disturbo. Invece quando sono, diciamo così, questi contatti da parte dell'arteria nel punto di origine del nervo dal tronco cerebrale, dal cervello, allora lì diventano conflitti perché il conflitto è sempre qualcosa di bellico purtroppo, di cattivo e in effetti da questo conflitto nascono poi quei disturbi che noi cerchiamo di risolvere nei nostri pazienti che sono la nevralgia del trigemino, l'emispasmo del facciale e la nevralgia del glosotaringeo. I sintomi dei conflitti neurovascolari sono per quanto riguarda il nervo trigemino, il conflitto tra arteria cerebellare superiore e il nervo trigemino, sono dei dolori a scossa elettrica, nevralgici, istantanei che vengono indipendentemente dalla volontà del paziente in momenti in cui lui non si aspetta di avere questi dolori che cominciano così in genere dopo i 40 anni di età, la fascia di pazienti con la nevralgia del trigemino va dai 40 agli 80, difficilmente sotto i 40 anni ci sono pazienti con nevralgia trigeminali, possono esserci, ma in genere va oltre i 40 anni perché ci vogliono degli anni di tempo prima che l'arteria con la sua frustrazione faccia un danno tale nel nervo trigemino da provocare questi dolori che sono appunto dolori folgoranti proprio come una scossa elettrica che possono essere provocati da manovre che il paziente fa normalmente come quella di parlare, quella di masticare, quella ad esempio nell'uomo di radersi la barba, quella di lavarsi il viso e anche lo sfioramento con la mano e di zone del viso che vengono chiamate zone grilletto e sono zone in genere fisse toccando le quali si scatena la crisi di dolore, in genere sono a lato della pinna nasale, a lato della bocca oppure sotto l'occhio, sotto la regione orbitale e questi dolori possono da questi punti irradiarsi verso la mandibola, verso la mascella o verso la fronte fino ad arrivare all'orecchio. Sono dolori inconfondibili, molto diversi dai dolori dell'emicrania o di altre algie della faccia e bisogna essere molto, diciamo così, accurati nel chiedere e chiedere al paziente, diciamo così, le caratteristiche del suo dolore perché è indispensabile fare la diagnosi giusta per poi, diciamo così, arrivare al trattamento corretto che può essere farmacologico chirurgico della nevregia trigeminale. Non bisogna mai rischiare di trattare chirurgicamente qualcosa che non è la nevregia trigeminale. Ecco, poi per quanto riguarda gli altri due conflitti, quello l'emispasmo del facciale è costituito da questi movimenti continui della palpebra che si apre e si chiude parossisticamente e del labbro, lo fanno, diciamo così, in contemporanea sono dovuti al contatto dell'arteria postero inferiore cerebellare con la zona di uscita del nervo facciale, sono movimenti che diventano poi invalidanti perché anche questo continuo a aprire e chiudere l'occhio impedisce al paziente di vedere bene, di guidare e di fare altri lavori. Nero trigemino si trova a livello intracranico, nasce da una zona dell'encefalo che si chiama ponte, quindi nella zona posteriore ed è, diciamo così, circondato, un po' circondato dal cervelletto, tant'è vero che quando poi dobbiamo andare così a trovarlo bisogna spostare il cervelletto e poi dirigersi sul tronco cerebrale dove c'è appunto il ponte, una parte del tronco cerebrale e dove poi si trova l'origine del nervo trigemino. Quindi è anche una struttura che si trova nella cosiddetta fossa cranica posteriore dal punto di vista osseo e la parte più bassa, diciamo così, del crani umano. Il trigemino toccato, stimolato, diciamo così, danneggiato da questa continua pulsazione, da questo conflitto dell'arteria, sono questi sintomi invalidanti di dolore di tipo proprio scossa elettrica, un dolore folgorante che si verifica nella metà del volto e che appunto rendono i pazienti incapaci di fare qualsiasi cosa mentre sono colpiti da questo evento e, diciamo così, li rendono anche così ansiosi e alla fine anche disperati perché è un dolore terribile, uno dei peggiori che si possano registrare. Ha questa caratteristica di essere ictale, cioè a scosse elettriche staccate l'una dall'altra. Non è mai un dolore continuo. Se è un dolore continuo, se il paziente riferisce un dolore continuo di tipo pulsante, dobbiamo pensare a un'altra diagnosi, non alla neurologia trigeminale, ma qualcosa di diverso tipo l'emicrania o le algie facciali atipiche, altri sindromi che non c'entrano niente con la neurologia del trigemino. L'energia del trigemino è proprio tipica con questi dolori che il paziente lo dice, mi viene questa scossa elettrica, il paziente proprio si deve fermare nelle sue attività perché è come se fosse colpito da una sorta di pugnalata nel viso, istantanea. I conflitti neurovascolari possono essere curati essenzialmente in due modi, o con una terapia medica o con terapia chirurgica. La terapia medica consiste di farmaci quali il tegretol, il gabapentin, la dintoina e altre ancora che hanno essenzialmente un effetto sedativo, diciamo così, non tanto sul nervo ma sulle aree, diciamo così, cerebrali corticali che ricevono questo segnale alterato dal nervo e che si comportano un po' come i parossismi delle crisi di epilessia. Quando ci sono questi parossismi di dolore sono paragonabili come, diciamo così, come neurofisiologia al parossismo della crisi epilettica. Infatti questi farmaci che le ho elencato sono dei farmaci che vengono anche usati per curare le crisi epilettiche e sono terapie in genere molto efficaci soprattutto all'inizio ma che possono perdere nel tempo, anzi spesso perdono la loro efficacia, oppure danno degli effetti collaterali talmente importanti che il paziente le deve discontinuare e allora bisogna ricorrere così alla terapia chirurgica. In più, dobbiamo ricordare che da qualche anno si è aggiunta anche la radiochirurgia che è praticamente una radioterapia che si fa sul nervo trigemino e che ha la caratteristica di, diciamo così, fare un danno controllato e programmato sul nervo trigemino e in questa maniera abbassare la sua attività e quindi anche diminuire la frequenza dei dolori della neuralgia trigeminale. Ma direi che l'intervento più importante è quello sul conflitto neurovascolare che noi facciamo da molti anni, è il più indicato perché rimuove una causa che anni fa non conoscevamo, non c'era un'ipotesi di questo tipo sulla neuralgia trigeminale, ma che poi con gli studi anatomici, radiologici, eccetera, si è piano piano affermata e quindi ci permette di rimuovere direttamente l'arteria dal contatto, dal conflitto col nervo e in questa maniera togliere completamente il disturbo senza fare, diciamo così, dei danni programmati o controllati sul nervo per abbassare l'attività, ma lasciando il nervo completamente integro. Questo intervento è un intervento chirurgico che richiede una craniectomia al di dietro dell'orecchio, si raggiunge per via microscopica il nervo trigemino spostando di lato e in basso il cervelletto, si identifica l'arteria che proprio morde in un certo senso il nervo alla sua zona di origine e la si stacca dal nervo e si interpone tra nervo e arteria un pezzetto di muscolo autologo del paziente stesso per impedire che l'arteria piano piano torni a contatto col nervo, non basta staccarla ma bisogna mantenerla distanziata e l'intervento in questa maniera consente una percentuale di guarigione dell'80% circa, non è il 100%, c'è un 20% di casi in cui si possono avere recidive o perché l'arteria torna in contatto con il nervo o per altre cause, diciamo così, di disturbi che si ripresentano a livello centrale e che non si possono, diciamo così, risolvere con un intervento sul trigemino. Bisogna pensare ad altre modalità terapeutiche, però l'intervento sul conflitto neurovascolare è oggi quello più praticato da noi, quello che ci dà più percentuali di successo per i quali i pazienti si sentono letteralmente liberati da questa patologia. Nei casi di recidiva alle volte possiamo reintervenire perché facendo una risonanza vediamo che il conflitto è tornato, l'arteria è tornata a contatto con il nervo malgrado il nostro sforzo di tenerla lontana, oppure se la neurologia ritorna riproponiamo delle terapie mediche con farmaci che non abbiano delle tossicità e abbiano, diciamo così, un'efficacia la maggiore possibile. Ricordiamo che la neurologia trigeminale non ha percentuali con nessuna metodica assoluta del 100% di controllo del dolore, quindi bisogna sempre pensare che tutte le metodiche possono avere un limite. Diciamo che quella sul conflitto è quella più efficace di tutte. Posso dirlo personalmente perché da più di 40 anni mi occupo delle neurologie del trigemeno sia a livello di terapia medica che a livello di terapia chirurgica. A questo proposito dico che esistono anche degli interventi periferici per cui noi con delle tecniche di puntura, con degli agli particolari arriviamo attraverso la guancia, diciamo così, a livello del ganglio del nervo trigemeno, lo comprimiamo e provochiamo un'anestesia, diciamo così, del mio volto. è un intervento che noi lo chiamiamo familiarmente palloncino perché viene fatto con un palloncino di Fogarty ed è un intervento periferico che però ha percentuali di successo più basse e soprattutto se c'è sotto la neurologia trigeminale come causa un conflitto neurovascolare l'intervento periferico serve a poco, prima o poi la neurologia molto prima che poi ritorna e ci conduce, diciamo così, a dover fare intervento. Dovremmo infatti operare una paziente che abbiamo due volte operato con questa tecnica periferica perché lei non voleva la tecnica centrale che ovviamente è più rischiosa e chirurgica ma la dovremmo rioperare perché il trigemeno è tornato dopo due volte che l'abbiamo operata perifericamente il conflitto è ancora lì e adesso andremo a liberare questo conflitto la paziente si è convinta che non ci sono altri mezzi efficaci quando c'è il conflitto bisogna puntare a risolvere il conflitto neurovascolare con questa tecnica microchirurgica molto efficace può avere dei rischi perché ci possono essere rischi di emorragia, di infezione rischi che possono richiedere anche una riapertura in urgenza dell'ammalato. Succede molto raramente, diciamo al di sotto del 2% esistono questi rischi però diciamo sono motivati dal fatto che il dolore che andiamo a trattare la malattia che andiamo a trattare è una malattia tremenda per cui i pazienti accettano questo tipo di rischio piuttosto che tenersi questo dolore che è tremendo, veramente tremendo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.